Per Tecla TV siamo oggi di fronte a Palazzo Nuovo a Torino e parliamo di una manifestazione che si terrà questo 29 marzo a Roma. Manifestazione che coinvolge abilitanti e abilitati delle facoltà di scienze primarie della formazione, conservatorio e belle arti e riguarda un provvedimento relativo alla nuova modalità di inserimento nelle fasce ad esaurimento. Ne parliamo con alcuni studenti. Si manifesta per l'inserimento nelle graduatorie di prima fascia di tutti gli studenti degli ultimi trienni, cioè 2008, 2009 e 2010 che hanno seguito i corsi abilitanti a numero chiuso attivati dal MIUR annualmente. Questo cosa significa? Che siamo tutti docenti, che abbiamo seguito un percorso abilitante su indicazioni del governo e che ad oggi ci ritroviamo esclusi dalle graduatorie di prima fascia a causa del decreto ministeriale 249-10 che è uscito appunto a febbraio di quest'anno, che è entrato in vigore il 15 di febbraio. Cosa succede con questo decreto? Che le persone che stanno seguendo questo corso, convinti di accedere in prima fascia e dunque avverti diritto all'emissione al ruolo, verranno costretti a un concorso per accedere a quella che è sempre stata una garanzia sino ad oggi. Perché verranno costretti? Perché questa riforma prevede che la laurea resta abilitante ma non è più sufficiente per accedere alla prima fascia. La cosa più grave è che tutti i nostri predecessori, vale a dire tutti gli studenti che si sono abilitati sino al 2007, che si sono immatricolati, scusatemi, sino al 2007, a Scienze della Formazione Primaria, al Conservatorio di Musica, all'Accademia delle Belle Arti, sono stati inseriti di prima fascia e noi chiediamo la parità di trattamento in quanto abbiamo seguito dei corsi identici attivati dal Ministero, perché solo il Ministero annualmente può attivare questi corsi e definire il numero in base a quanto indicato dal preveditorato. Quindi cosa accadeva a te quando ti sei iscritta alla laurea magistrale? Allora, io come tantissimi miei colleghi già insegno, mi sono iscritta appunto per avere una garanzia in più, per poter avere un futuro un pochino più sereno, per entrare di ruolo insomma, e quindi mi sono iscritta con delle tasse oltretutto costosissime, convinta di entrare in prima fascia. Perché così era stato stabilito? Perché così era stato stabilito e perché quello era il sistema di reclutamento vigente all'atto dell'immatricolazione. Ora, a giochi fatti, nel senso io mi laureerò a giugno, mi dicono che questa laurea non è più sufficiente. Ma io non posso comunque fare la precaria vita, perché il lavoro della precaria, cioè se io facessi la precaria garantita, allora forse la potrei anche fare, ma essere precaria vuol dire che ad aprile tu inizi a star male perché sai che al 30 giugno si finisce il tuo lavoro e devi, scusatemi, e devi di nuovo iscriverti nella disoccupazione. Tu passi un'estate pensando che, perché io ho 50 anni, quindi i miei figli hanno una certa età, passi l'estate pensando ma io a settembre lavorerò di nuovo, la disoccupazione dura sei mesi e poi che faccio? Quindi un'estate di angoscia, un'estate veramente di patimento, ma patimento forte. E di questo la mia famiglia ha risentito, ma veramente, ma sotto un aspetto veramente importante ed emotivo forte. Anche i miei figli. Quanto ti è costato studiare in questi anni? Da quanti anni hai ripreso a studiare? Io sono iscritta al terzo anno, è preciso che lavoro e sono mamma, scusate, non me ne voglio fare un banto, ma sono due anni che prendo la borsa di studio e sto veramente lottando per prendere la borsa di studio, prima perché non posso pesare più di tanto sulla mia famiglia, secondo perché voglio anche essere un esempio per i miei figli. Io ho un figlio che quest'anno ha della maturità e una figlia che ha il primo anno di superiore. E ritengo che il lavoro dell'insegnante sia un lavoro nobilissimo, ma non voglio veramente rischiare di fare della retorica, ma è veramente un lavoro importante e nobile e non può essere sminuito.